Bellezza in passerella al Grand Hotel Guinigi di Lucca. E' tutto pronto per l'appuntamento in programma sabato 21 dicembre dalle 21.15 nella splendida location sulla Via Romana, dove sfileranno le candidate per la selezione regionale dell'edizione 2014 di Miss Mondo, tutte in gara per succedere a Sala Baderna, la bionda vincitrice di quest'anno. In vista dell'appuntamento di sabato, ieri sera si è tenuto una presentazione con una serata conviviale al nuovo locale Mai Mai di Via Dante Alighieri, a cura del responsabile locale della Five Stars Management Enrico Ciampalini e sarà anche il presentatore della serata di sabato assieme alla bella Laura Olimpia Sani. Tra gli ospiti anche i gemelli siamesi, dei successi di Italia's Got Talent, Elisa Ferretti e Miss Toscana 2012 Irene Casartelli.